Per fortuna la squadra ha capito che io vado bene di testa e ci abbiamo provato a fare tutti i cross dove io potevo entrare con velocità perché era un schema che avevamo lavorato durante tutta la settimana e è uscito bene. Secondo me siamo una squadra dove possiamo fare tante cose, forse dall'inizio non è stato così semplice perché eravamo tante nuove, il mister anche era nuovo, però piano piano quando ci abbiamo andato conoscendo un po' tutte abbiamo creato una bella squadra dove secondo me il ritorno della stazione sarà molto meglio. Sono molto contenta della vittoria corale di squadra, abbiamo fatto una bella prestazione, ci siamo preparate in settimana e le settimane rientrate dalle feste per fare una prestazione importante, si è riuscita a portarla a casa e sono contenta di come sia andata sia a livello collettivo, individuale e di aver contribuito ad aiutare la squadra a portare a casa la vittoria. Io ho sempre creduto nel potenziale di questa squadra e adesso i risultati stanno arrivando e sono frutto del lavoro che abbiamo fatto da inizio anno e ci siamo messe a disposizione da subito e anche se i risultati all'inizio ci hanno messo un po' ad arrivare stiamo raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che ci è stato fatto fin da subito e sono sempre stata convinta che questa squadra meritava e merita sicuramente di più. Un mister anche dal punto di vista umano è disponibile al dialogo, al confronto e anche all'interno dello spogliatoio con i nuovi arrivi, i nuovi innesti ci stiamo trovando bene e tante ragazze anche che vengono da fuori, internazionali e con grande spirito e mentalità, tradizioni diverse siamo un bel gruppo, sono contenta. Hai trovato un grande presidente anche? Sì assolutamente, il presidente è sempre molto presente e si vede spesso sia alle partite, in trasferta, agli allenamenti e fa sentire la sua presenza e noi siamo riconoscenti e lo ringraziamo per questo.